Salve a tutti e benvenuti allo spazio servizio di Cucina con Noi. Oggi siamo qui con tanti fiori e vogliamo preparare un centrotavola per un banchetto e così andiamo a vedere quali sono le fasi per la preparazione. La prima cosa prendiamo una spugna e la bagniamo completamente. La fase successiva è quella di preparare i fiori legando appunto lo stelo a dei bastoncini di legno in modo tale che possiamo infilzare i bastoncini alla spugna. Una volta fatta questa operazione possiamo iniziare a preparare la composizione partendo dai ramoscelli di verde mettendo quelli laterali e cercando di riempire man mano fino ad ottenere una composizione piena sia con i ramoscelli di verde che con i fiori di diversa tipologia. Quindi procediamo nella preparazione di questo centrotavola. cercando di riempire tutti gli spazi vuoti e utilizzando come vedete dei fiori a gambo corto che appunto tagliamo volta per volta in modo tale che una volta posizionato sul tavolo questo non copra la visuale dei vostri ospiti. Possiamo anche arricchire la preparazione per esempio utilizzando della frutta. In questo caso abbiamo un melograno che possiamo sistemare da questa parte. Siamo così arrivati quasi alla fine della nostra composizione qualche eventuale ultimo ritocco, ancora qualche fiore da inserire per cercare di coprire eventuali eventuali buchi tra un fiore e l'altro ed ecco qui la nostra composizione pronta per essere sistemata su un tavolo imperiale, un tavolo grande che ha uno spazio molto ampio al centro che richiede appunto una grande decorazione floreale. Per lo spazio del servizio è tutto e la prossima volta vedremo qualche altro tipo di decoro magari per una console o per un buffet. Arrivederci alla prossima Grazie a tutti